Comincerò a lavorare tra qualche giorno. L'opera impiegherò 120 giorni per ultimarla. Saranno rappresentati i 50 volti che hanno reso il carciolataneo importante, famoso. Saranno realizzati con tecnica mista, con colori al quarzo e smalti di spray. Il tipo di vernici usate saranno delle vernici apposite per esterni che garantiranno una resa nel tempo più lunga possibile.